Questa è una cosa che non può essere giustificata. Il segretario generale avrebbe dovuto in qualche modo uscire fuori e dire io mi prendo la responsabilità e vi dico questo. Ora sappiamo che l'amministrazione vorrebbe fare una conferenza stampa venerdì, ci hanno detto così per chiarire tutto quanto, però si è alzato durante il Consiglio Comunale di oggi l'assessore Giuffrida che naturalmente è il padre di questo piano regolatore essendo l'assessore ai lavori pubblici non peraltro e quindi Giuffrida che ha detto delle cose dice ragazzi noi andiamo avanti ma non abbiamo problemi. Allora abbiamo chiesto all'assessore Giuffrida di ripetere quello che ha detto in aula anche al nostro microfono. Sentiamo.